Può una chiesa nascere per un divorzio negato? Nel caso di quella anglicana sembrerebbe di sì. Enrico VIII voleva divorziare da Caterina d'Aragona, che non era riuscita a dargli un erede maschio. Il Papa, il primo Papa, Clemente VII, fu irremovibile. Enrico VIII decide di fare da solo, di divorziare e di sposare Anna Bolena. E di unificare nelle sue mani potere temporale e potere spirituale, nominando direttamente tutti i vescovi. Nella prima fase si tratta di uno scisma di potere. Poi via via la chiesa anglicana assume caratteristiche anche di diversità dalla dottrina cattolica, assumendo elementi del luteranissimo e del calvinismo. Solo una curiosità. Anna Bolena, la donna per cui Enrico VIII decide di fare lo scisma, tre anni dopo il matrimonio, venne arrestata e uccisa da parte dello stesso re. inочку in Duchamini. Grazie a tutti. Grazie a tutti.